Lunedì 13 giugno ad Agropoli si sono tenuti i festeggiamenti di Sant'Antonio da Padova presso la chiesa a lui dedicata. Allora quest'anno sono andati particolarmente bene rispetto agli anni precedenti perché finalmente siamo riusciti a fare la processione classica e stasera ci sarà la festa civile, i festeggiamenti civili che erano già due anni che non facevamo più. Quindi siamo felici perché siamo la prima festa di Agropoli dopo il Covid insomma dove ci sarà tanta gente, ci sarà lo spettacolo Canoro e speriamo che la gente si diverta, lo facciamo lo spettacolo civile ovviamente per far divertire la gente. Per quanto riguarda la festa religiosa ieri è stato, oggi ci sarà la processione quella classica quindi anche se l'abbiamo spezzata in due tronconi perché non possiamo più fare le processioni tanto lunghe. Però ieri c'è stata la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali che secondo me è uno dei punti più alti e il momento più bello per la comunità, quello in cui la comunità si aggrega e si partecipa maggiormente. È uno spettacolo ogni volta ed è bellissimo, commovente ed emozionante. Stasera sarà la stessa cosa, ci apprestiamo a fare una bella processione, c'è tanta gente e usciremo di nuovo col santo come gli altri anni, ritorneremo alla normalità. Questo è un segnale, è il primo insomma di Agropoli. Siamo felici di dare noi l'inizio della normalità. Noi siamo una comunità molto unita, siamo una famiglia, io lo dico sempre, tra di noi non c'è neppure la necessità di chiedere perché sono talmente tante le persone che si propongono volontariamente che è una gioia vedere, tu lo vedi quanta gente c'è, quanti siamo a dare una mano e ognuno nel suo piccolo fa quello che può ma più di quello che può, non nessuno si tira mai indietro se non per problemi lavorativi ma quando riusciamo mettiamo da parte anche quelli, cerchiamo insomma di dare la precedenza a Don Carlo. Io sono onorata, per me è un onore immenso fare parte di questa comunità ed essere la presidente ma è una carica voglio dire più che altro dimostrativa. Io non ho nessun ruolo particolare, io sono un volontario come gli altri e noi ci vogliamo bene, noi ci vogliamo, tu lo sai, tu fai parte della nostra comunità, sai quanto affetto c'è fra di noi e questa è la cosa principale, siamo molto uniti. Abbiamo celebrato la festa in onore del Santo di Padova, in tre giorni con la sua venerata immagine custodita nella chiesa a lui dedicata, nella contrada a Moio, abbiamo percorso tutte le strade della contrada stessa, il giorno 11 ci siamo recati sulle strade della zona di Moio Alto dove abbiamo incontrato le famiglie e condiviso con loro momenti di preghiera ma anche di convivialità. Il giorno 12 pomeriggio c'è stato poi un bel momento di festa insieme con gli agricoltori nello straordinario scenario della nostra Baia di Trentova, lì abbiamo celebrato l'Eucaristia al termine della quale numerosi mezzi agricoli hanno ricevuto la benedizione con la reliquia del Santo così come alcuni animali da cortile. Un bel momento anche questo che ha permesso di ritrovarci insieme ad un comparto così importante della nostra economia che è l'agricoltura e che è sicuramente all'origine stessa della contrada, quindi anche un modo per riaffermare la identità di questa bella contrada. E poi il giorno 13, il giorno della festa di Santo Antonio, tutte le celebrazioni sono state vissute con particolare partecipazione da parte dei fedeli e anche con grande devozione. Il segno che le ha contraddistinte è stata la benedizione del pane di Santo Antonio, ricordo di questo miracolo a lui attribuito, certo, ma anche segno di quella solidarietà, di quello spirito di condivisione che ha animato la vita di questo Santo della Carità. E la giornata si è poi conclusa con la processione che finalmente dopo due anni di fermo a causa del Covid abbiamo seguito nelle strade principali della contrada a Moio con una buona partecipazione da parte dei fedeli ma anche con una bella partecipazione da parte dei coltanti che si sono impegnati per la realizzazione della stessa. Io voglio approfittare di questo messaggio per ringraziare tutti i portatori, i veterani e i più giovani che non si sono risparmiati. Al termine della processione, prima del rientro in chiesa, abbiamo poi voluto dedicare un momento di commemorazione al periodo del Covid, alla solidarietà che abbiamo potuto sperimentare nei volontari e negli esercizi commerciali della contrada che mi hanno sostenuto nelle attività caritative. E anche una menzione particolare alla prima vittima di Covid della nostra città e della nostra comunità l'indimenticato Alfonso Migliorino al quale abbiamo dedicato alcuni versetti del capitolo 44 del libro del Siracide lì dove si parla dei uomini illustri, la cui memoria continua a vivere nel cuore di coloro che li hanno conosciuti ma soprattutto vivono in Dio. Abbiamo concluso poi con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Walter Santo Mauro, originario proprio di questa parrocchia. Non sono mancati anche i segni esteriori come lo spettacolo pirotecnico al termine della processione poi un momento di festa di musica popolare che ci ha visto insieme anche ritrovare il gusto della condivisione di questa festa che passa non solo attraverso la fede, la preghiera, la devozione verso Santo Antonio ma anche proprio attraverso il riappropriarsi di un senso di comunità che a causa del Covid sembrava essersi indibolito. Il mio ringraziamento allora va a tutti coloro che hanno contribuito a diverso titolo alla festa del nostro Santo Antonio e chiedo al Signore attraverso la sua intercessione di proteggere e benedire tutti i devoti. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.